Bentornati con Radio Design dell'Istituto di Design di Perugia, siamo qui nel nostro format Wine Design, la radio che dà voce al vino con Eli, la speaker sommelier e Nicola, docente web marketing dell'Istituto. Oggi abbiamo uno special guest con noi, Tannin Time, Alessandro, ci parlerà del suo progetto e in degustazione durante la puntata come sempre abbiamo un vino Lungarotti Monte Falcorosso, non vi dico altro, non vi spoilerò come Game of Thrones, e man mano scopriremo perché oggi degustiamo questo vino con Alessandro. A questo punto io passerei la parola ad Alessandro, che ci spiega un pochino da dove nasce questa sua evoluzione del vino, del blog, e buon divertimento. Buongiorno a tutti quanti, io ringrazio Eli, troppo un capo per avermi invitato, ormai è solo troppo un capo per me, Nicola Palumbo in Instagram troppo un capo. Instagram ma anche nella vita, insomma. Anche nella vita. Nulla, io ancora ringrazio una volta tutti quanti per avermi invitato e volevo parlare del mio progetto, di come è nato il mio alias su Instagram e tutti i social è Tannin Time, il mio blog chiaramente Tannin Time. Sono sempre stato appassionato di vino, ho sempre amato il vino e avendo un percorso alberghiero, ho iniziato a conoscere il vino, a approcciarmi al vino con i professori alla scuola alberghiera. Quasi per obbligo, insomma, dovevi approcciarti non soltanto al cibo ma anche all'aspetto, diciamo, delle bibite, no, dell'alberghiero. Assolutamente, enogastronomia vanno di pari passo, enologia, gastronomia, sulla tavola ci sono i cibi, devono essere per forza abbinati. Quindi i professori hanno iniziato ad approcciarci quindi al servizio, al conoscere il vino, al metodo di degustazione, seppur basilari, però un minimo dovevamo avere le conoscenze, le basi. Anche comunicative, via. Anche comunicative e quello è stato un altro, diciamo, motivo per cui ho iniziato a studiare il vino, perché lavorando nei ristoranti dovevo obbligatoriamente presentare il vino, cercare di vendere il vino. Quindi, oltre che fare, diciamo, gli interessi economici dei ristoranti, dovevo anche proporre dei piatti, dei vini abbinati al piatto che consumavano. Quindi dovevo per forza leggere il vino, studiare il vino, guardare. Allora non c'era internet, quindi prendevo le riviste, compravo le riviste. Sei di un'altra epoca come me, giustamente. Siamo giovani dentro, però. Siamo giovani dentro. Old school, insomma. Old school, esatto. Old young school, va bene, mettiamo il trattino. Quando è iniziato? Che anno è iniziato? L'alberghiero? No, dico il blog proprio. Il blog è iniziato nel 2015. Ho fatto la pagina online su internet e legato con i social network, solo che nel 2015 i social ancora non erano in voga come ora. Quindi c'era Instagram, c'era, ma erano ancora le prime armi. Nel 2012, se non sbaglio, è stato lanciato Instagram in Italia. Facebook c'era, con le pagine aziendali, LinkedIn, Twitter, tutti quanti nel 2015. Eh, tanta roba. Perché Instagram sono un paio d'anni che è partito… Sì, tre annetti. Sì. Ho andato con un block notice a segnare, a segnarmi vini che a me piacevano. Certo. Vini che a me piacevano. E quelli che io dovevo proporre ai clienti. Eliana impara, lo stai già facendo? Certo, mi vedi sempre col block notice. Fatti sempre col block notice, Eliana. Eliana li consuma molto di più di me. Sì. Io sono poco ecologica per l'impatto di alberi che vengono consumati, però va bene. Cercherò di prendere… Questa è la non-amore skin da inizio anno, immagino. Da gennaio. E quindi iniziavo a segnarmi sul block notice. Arrivato internet Vivino, applicazione Vivino, mi sono scritto su Vivino. Ho iniziato a segnarli lì, a notarli lì, con una leggera descrizione, perché come ho precisato nel mio blog, io non sono un sommelier ancora, sto studiando per diventarlo. Quindi era una descrizione semplicemente di quello che io sentivo, quindi dell'analisi organolettica, quello che io percepivo. Che alla fine è la cosa più importante, perché al di là della tecnica e di quello che ci può essere in un vino, comunque l'importante è metterci anche la propria prospettiva, tra virgolette, soggettiva in un vino, altrimenti non si riesce a comunicare. Esatto. Diventa semplice dire questo vino è così, 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 fine, insomma. Diventa una comunicazione da etichetta. Invece riuscire a metterci la propria esperienza è quello che fa la differenza. Perdonami se ti ho interrotto, però volevo dare importanza al tuo modo di fare. Sì, perché anche questa è comunicazione, quindi è giusto, più che giusto. Quindi Vivino, ho iniziato a pubblicare su Vivino, ripeto, le mie impressioni, e nel 2015 ho pensato, ma apro una pagina mia e inizio a segnare come voglio io, classificare per come voglio io, perché se dovevo andare a ricercare su Vivino, che è comoda la ricerca, poi l'hanno migliorato con gli anni, perché all'inizio non era così, diciamo, pratico, esatto. Come voglio ricercarli io, come voglio classificarli io, quello che voglio inserire, perché alla fine è un'applicazione fatta da qualcun altro, è pur sempre limitata, anche se fatta in maniera professionale, adeguata, con gli strumenti. Io ho aperto questo blog nel 2015 e ho iniziato a scrivere. Sì, infatti, la pagina principale del suo blog, che è pulita, anche a livello cromatica, vedi questo bianco, questo rosso, è ordinata, è sistematica, divisa per categorie, abbiamo vino rosso, vino bianco, francese, vino rosè, si legge, subito, di primo impatto, non amo definire me stesso, perché fondamentalmente sono come il vino, in continua evoluzione, e insomma, è proprio quello che stai raccontando, no? Dall'alberghiero, poi ti sei voluto approcciare diversamente, hai cominciato a scrivere, che poi il blocnotes tuttora ce l'ha, è una cosa elegantissima quando lo vedi appuntare, anche perché magari si potrebbe usare il telefono, memorizzare e poi riscrivere, non ce l'ho, appunta, assegna. Ce l'ho nella 24 ore. No, e dopo magari ce la fai vedere, perché è una cosa veramente molto poetica, io non sono poetica, no? E poi trascrivi sul blog, no? E a questo stavo, volevo farti una domanda, dato che oggi Instagram, Facebook, sono piattaforme molto più dinamiche, dirette, veloci, uno posta il video, posta la foto, posta una descrizione, quanto valore può avere o continuare ad avere, in futuro magari, no? Il blog, perché sul blog bisogna scrivere, bisogna raccontare, bisogna raccontarsi, non soltanto il vino, ma anche le esperienze personali. Il rispetto invece è all'immediatezza, alla fruibilità di Instagram. Pensi che più o meno, no? Potrebbe un po', tra virgolette, finire la moda di Instagram e tornare in auge il concetto di blog e, insomma, il suo modo di raccontare. È una domanda molto complessa, è una domanda molto complessa. Sì, io non le faccio semplici. Sì, forse dopo un paio di bicchieri di vino la riscaldisco meglio. Allora, sicuramente il blog ha assunto una minore importanza rispetto ai social negli ultimi due anni, come dicevi prima. Però c'è da notare delle particolarità. Per esempio, l'accredito a Vinitaly è fatto con la limitazione che bisogna avere una pagina Instagram da almeno due anni e un blog. Ah, ecco. E un blog. A livello di autorità ti dà tanto avere una pagina o qualcosa, è vero? Ripeti, scusami. No, dico, ti dà molta più autorità presentarti appunto tramite un blog piuttosto che semplicemente con un account Instagram. Anche perché lì spesso ci sono un sacco di magheggi attorno. I famosi bot, no? Bot, acquistare fan e quant'altro che rendono anche forse meno credibile. Un blog dà comunque l'idea di essere qualcuno che veramente lo fa come un lavoro giornalistico e quindi ti dà molta più credibilità, soprattutto per quanto riguarda il Vinitaly o ambienti di settore, diciamo. E sicuramente dà più credibilità. Professionalità. Quello sicuramente. Non penso che soppianterà mai i social network attualmente nel mondo attuale. Forse arriverà qualche altro social, ma ora è troppo grosso. C'è anche da dire che tra i maggiori wine blogger italiani e anche internazionali, pochi hanno un blog dove scrivono di continuo, dove aggiornano, dove pubblicano semplicemente quasi una landing page dove c'è il contatto, il loro contatto, una breve descrizione, una loro breve descrizione, ma non c'è mai, non ci sono quasi mai articoli. Pubblicano molto di più su Instagram. Su Instagram poi altri hanno aperto la pagina Facebook per esempio da poco tempo, sei mesi, sette mesi, un anno rispetto alla pagina Instagram che già ha magari 20.000 follower, 16.000 follower, 15.000 follower. E non il blog. Io ho iniziato con il blog e quello che a me piace è semplicemente per poter scrivere, pubblicare come io voglio, quello che io voglio e categorizzarle come io voglio, perché se vai sulla mia pagina Instagram tu vedi le foto, le scorri, vedi like, vedi commenti che forse toglieranno pure i like pubblici Instagram. E vai. Però non è quello che io volevo, io volevo su un mio promemoria di quello che bevevo e categorizzarlo come preferisco. È un modo sistematico, no? Sì, in modo sistematico. Posso dire, per quanto riguarda, perché io di vino capisco poco, però. Non è vero, adesso sei esperto. Adesso sto imparando le cose, poi ripetere le solite tre parole che ho imparato. Batonaggio, cioè. Però sul web marketing ne so molto di più. Ecco, vai. Posso dire che la strategia tua è ottima perché questa cosa mi sorprende che tanti non abbiano invece un blog tra gli influencer del settore, perché in realtà come sappiamo bene, i social media sono degli strumenti di diffusione di contenuti. Sì. La tua strategia è ottima perché magari un domani, come Facebook sta avendo ad esempio un calo, Instagram, non penso che fra dieci anni sarà popolare come lo è oggi, un blog è pur sempre un luogo dove c'è un contenuto, un sito, qualcosa di stabile, di fisso, eccetera, è sempre un luogo dove le tue cose saranno sempre presenti e poi potranno essere diffuse con i nuovi social network del futuro. Quindi strategicamente io ti consiglio sempre di mantenere questa strategia perché è ottima, anzi è la cosa migliore da fare. Ma chi mi segue lo sa, io pubblico nel blog e posto su Instagram, su Facebook e tutto quanto. Ma io il primo pubblico nel blog. È possibile che io pubblico nel mio blog un articolo che poi non posto su Instagram e poi lo posto successivamente. Ma infatti è una strategia giusta, giustissima. È quello che ho voluto creare io. Poi in realtà a me Instagram, i numeri, a aprile 2018 al Vinitaly io avevo meno di 5.000 follower, 4.800 follower, cresciuti vertiginosamente nel 2017. Vertiginosamente. Attualmente, quindi secondo Vinitaly a distanza di un anno io ce è cresciuto. È cresciuto vertiginosamente per una questione di aumento di utenti su Instagram. Aumentati gli utenti, è aumentato il mio molto gradualmente. Molto gradualmente. Certo. Vabbè, anche perché sei bravo, perché sennò non è che aumentano. Sì, forse piace come scrivo io, certo, quello sì. Sì, ma anche perché devi offrire un servizio all'interno di un blog, altrimenti uno lo apre, nota che non c'è qualcosa che io posso approcciare, imparare o fare, lo abbandona. Ci entro una volta e non ci entro più. Invece la differenza, a mio avviso, tra un influencer e un blogger sta proprio nel riuscire a comunicare, anche a livello non verbale, oppure comunque con la scrittura, quello che è. Tra l'altro nel tuo blog, io ieri l'ho spulciato proprio in modo molto, diciamo, da stalker, via. Grazie. C'è anche la sezione delle tue esperienze, no? La del Vini Italy, che non è soltanto un'esperienza di degustazione, di conoscenza delle varie realtà italiane, ma anche di social, perché si incontrano persone, ci si scambiano, si creano relazioni. Oppure quella del Blind Blogger Testing, a cui ho partecipato qualche mese fa, è un tuo diario di bordo, un continuo raccontare al mondo quella che è la tua esperienza col vino, che non è un'esperienza di poco conto o di breve tempo, insomma, è qualcosa che già è strutturata, è costruita, insomma. Quindi la differenza, per a mio avviso, tra un influencer che posta e un blogger che scrive sta nella qualità e non nella quantità, ecco, del numero. Bello questo, mi fai venire in mente? Diario di bordo. Io ho sempre andato in giro con questo blog notes. Sì, ma adesso ce lo devi far vedere, questo blog notes. Sì, te lo faccio vedere. E noi che siamo old style, old... Old young. Puoi dire vecchio, puoi dire vecchio. Old young. Senza io, senza capelli, tra l'altro. Noi abbiamo le foto stampate, le foto stampate. E quando ho iniziato a aprire il blog, ho pensato questo. Le mie foto della vita, tutte quanto ce le ho nel bell'album stampate. E poi le metto nell'hard disk, ma nell'hard disk poi non le riguardo mai. Invece stampato ogni tanto si riguardano. Allora ho pensato di metterle all'interno del blog, perché io, questo è il mio quindicesimo Vinitaly, se non... Caspita! Sono sempre al dato il Vinitaly. Cioè, quando hai vent'anni che ci vai? Sì, da quando mi sono trasferito all'università. Da quando mi sono trasferito all'università. È nato prima a Tanning Time che è Vinitaly, insomma. Perché tu hai studiato... Qui ad Assisi. Ad Assisi, economia del turismo. Ah, ok, giusto. Economia del turismo ad Assisi. E no, Vinitaly è la... No, al 46esimo edizione. 46esimo edizione. No, o 54, non mi ricordo. Però è tanto in grande. Sì. Adò dal dopoguerra in poi. Quindi anche di più penso. E diamo i numeri a quest'ora. Vediamo. Quindi ce l'ho nelle foto stampate, però non le riguardo. Considerando che il vino mi piace ripensarlo. Quando mi dico l'hai bevuta questa bottiglia, aspetta. Fammi pensare, fammi pensare. E guardo nel blog e ora ce l'ho. So che l'ho bevuta, so che l'ho assaggiata. Si perdono. Sennò si perdono. E quindi questo diario di bordo è come se fosse un vero e proprio diario di bordo, un diario dei ricordi. Io ammiro tantissimo chi come voi ha passione, direi anche maniacale per qualcosa, no? Perché nel senso positivo del termine. Sì, nel segnale scrivere. Ho anche amici che sono sommelier della birra, non so come si chiamano, sommelier della birra, c'è ora questo nome. E anche loro, quando vanno agli eventi, intanto non riesco a capire come riescono a assaggiare tipo 40 o 50 birre e ricordarsi odori. Anche loro prendono gli appuntini, no? Tu fai l'assaggio immediato. Però io apprezzo tantissimo questa cosa e io non ce la farei mai. Cioè io dopo qualche mese abbandonerei probabilmente queste cose metodiche. Invece apprezzo molto la metodicità che avete. Forse altre passioni. C'avrei altre passioni. Sì, ce ne ho troppe, ecco perché. Sì, vabbè, ma tu per esempio sul digital marketing, no? A quanti siti, libri, riferimenti hai che ogni tanto... Mi vedi, Nicola, messaggio da Nicola e mi trovo una pagina, zia studia, zia leggi. Quindi capito? Ognuno ha le sue... Non ce l'ho pensato. Ma giusto così, eh? Senti, Tannin Time, no? Il tempo del Tannino. Insomma, perché questo nome? Da dove è uscito fuori? È stata una pura creatività fantasiosa? O c'è un riferimento alla tua persona? È legato a due mie passioni. Ok. Al Tannino. Al Tannino. E agli orologi col tempo. Ah! Infatti ho visto l'orologio fighissimo. E agli orologi con il tempo. Questo non lo sapete. Quindi è nata per queste due passioni. Poi ha coniugato i nomi, i due parole, pensando Tannino, l'evoluzione del Tannino del tempo. Ecco, come la tua frase del blog, no? Esatto, come tu insegni a me, il Tannino si modifica, il Tannino migliora nei vini. Si levigare, si fa tutt'uno col vino stesso, no? Esatto. Ok. Quindi negli anni migliora. Ok. Saranno che migliori io, vabbè. Ovviamente, più siamo anziani è meglio. Meglio, esatto. Crediamoci, crediamoci. Ci fanno intanto la foto i... Siamo famosissimi. E quindi legato a queste due passioni, il vino è le 10 e 10, avete visto la lancetta sono 10 e 10, esatto. Quello per convenzione, tutte le case produttrici mettono le lancette alle 10 e 10, come orario, per indicare, scusa, per una strategia di marketing, per far rendere visibile, molto visibile, il logo che in genere è in alto negli orologi. La scritta in alto negli orologi. Ah, che sfigata. Non ce l'ho mai notata. La strategia di marketing. E l'altro, invece, qualcun altro dice per il segno di vittoria. Beh, questa cosa mi piace tantissimo. Bella questa cosa. La diremo a lezione, questa cosa. E poi c'è un'altra cosa a livello di design, che parlano di una simmetria all'interno del quadrante, facendo un quadrato proprio, però... Qui dovremmo trovare le progettazione grafica. È troppo complicato per me, non vedo più come... L'hai fatto tu stesso o te lo sei fatto fare, insomma, il logo così? Cioè l'hai progettato tutto da solo e poi l'hai fatto realizzare o anche quello hai fatto... No, no, l'ho fatto io, l'ho fatto. L'ho fatto io. Grazie. L'ho fatto proprio io. Bellissimo. L'ho fatto io. E il grigio... Da scusare se non fosse che ormai ha già fatto tutto. Il grigio è... perché i cinturini degli orologi sono grigi e l'altro chiaramente è relativo al vino, il colore del vino rosso. Quanti vini hai recensito sul blog da allora? No, mi fai una domanda che io non so darti una risposta. Un numero indefinito. Non lo so quanti non ho recensito, non me lo ricordo. Più di 500, 1000? No, 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 non arrivo a 1000, sicuramente no. Meno male perché se no non arrivo a 1000. Ma sei solo sul blog? Fai a rimanere magro? Non mangio io. No, purtroppo non la posso fare attività fisica perché con i lavori e i figli non ce la faccio. Poi unendo la passione, in fine settimana vado magari a qualche fiera o a assaggiare il vino, non ce la faccio. Semplicemente che io mangio poco. Io mangio a colazione e poi mangio a cena. Ah beh, questo pure io. Soltanto che a me io faccio fatichissima. So che io mi sfondo. Aspettate, no mamma, pranzo, pranzo mamma. Sicuramente mamma stai guardando. Ah sì, il blog lo gestisci da solo o ci sono altre persone? No, lo gestisco io, attualmente lo gestisco io il blog. Ah vabbè ragazzi. Attualmente lo gestisco io. Abbiamo tipo una ventina di domande mi sa a cui rispondere. Vedevo che scorreva continuamente qui la roba. No, sono tutte le persone che sono online. Ah ok, vediamo tutti quelli che salutano. Fenice. E infatti c'è un po' di gente che saluta. C'è un po' di gente che saluta. Sì. C'è anche di nuovo Cantina Cenci. Dobbiamo rinvitare, dai. Eh ora, appena tirano fuori i movimenti. Il mitico Paolo? Giovanni. Giovanni Cenci, sì. Il fratello, vedrai. Ah, Giovanni? Ah ok, no. Paolo è l'architetto, non mi ricordo insomma. Senti, domanda. Sei qui per un motivo preciso, no? Ci ha invitato Noi Radio, ma anche altri tanti wine bloggers e wine lovers ad un evento molto molto, posso dire figo in puntata? Vuoi dire tutto quello che vuoi. Anche Instagramers, oltre a wine lovers. Instagramers, vabbè facciamo evento suggestivo. Sabato, a Wine Experience, che ma chiede che pronuncia? Da Lungarotti a Montefalco, ecco perché stiamo degustando. Ecco perché c'è questo. Adesso lo facciamo vedere. Il Montefalco Lungarotti Rosso, 2015, che è un uovaggio di San Giovese, Merlò e chiaramente Sagrantino. Ti ricordi la percentuale? 60, 25 e 15. 60, 25 e 15, 2015 è nata bellissima, però adesso lo degusteremo man mano, un po' di note così. Sì, ma prima parliamo di questo progetto, da dove nasce la volontà di, non lo so, chiamiamola partnership con le cantine, con le aziende, quali sono gli eventuali progetti futuri, insomma, dove vuole arrivare Tannin Time e ecco parliamo di sabato, insomma. Allora, parliamo di sabato, dell'evento. Sono entrato in partnership con Lungarotti, con team Lungarotti, e abbiamo pensato di organizzare un evento nella loro tenuta a Montefalco, una tenuta meravigliosa, sede anche di altri, di una location per eventi in genere, oltre che per la produzione di vino, per vivere l'esperienza enogastronomica, ritorno alla parola perché sono tutte e due, all'interno della loro cantina e dei loro vigneti. Se il tempo lo permetterà, faremo un giro in vigna, un giro in vigna, un giro in cantina e poi ci faranno uno show cooking. Che bello! Che è sempre il mio momento migliore, senza nulla togliere il vino, ma ovviamente, visto il mio peso è importante. Cioè, i suoi, giustamente, i suoi gusti, i suoi gusti. Che bello! Con lo show cooking faremo chiaramente un assaggio, una degustazione dei loro prodotti. Lo show cooking, se il tempo ce lo permetterà, sarà fatto fuori, all'esterno, e saremo belli adegiati sulla loro erba, quindi faremo un picnic, se il tempo lo permette. Altrimenti saremo nella loro bellissima sala interna, comunque ci faranno lo show cooking. Ci accontenteremo. Come va alla grande. Come va alla grande. Quindi prodotti umbri al 100% tipici, sia nel cibo che nel vino. E questo evento sarà il primo, speriamo di tanti, di una lunga serie. Sono contento che il primo partito sarà con Lungarotti, perché in realtà Lungarotti è una delle prime etichette che io ho bevuto quando sono arrivato in Umbria. Eh beh, certo. Nel 2000. Lungarotti è un'azienda diffusissima. È un marchio storico comunque. Un marchio storico. Sì, poi ha due aziende, una di Torgiano, e ricordiamo la denominazione Torgiano Doc, è la prima in Umbria, e quest'anno il 25 maggio fa 51 anni. È una delle prime denominazioni Doc in Italia, ed è tutto grazie a Giorgio Lungarotti, vorrei sottolineare l'importanza storica di questa cantina che ha dato comunque rilevanza e importanza all'Umbria e ha reso il vino da tavola a vino internazionale. Escurso storico. È il San Giovese Umbro, altrimenti il San Giovese si ricorda per altri ben più noti i cugini vicini. Il San Giovese Ubiquitario. Vorrei aggiungere che io porterò tutta l'attrezzatura, quindi sarebbe una figata fare anche lì una diretta con tutti magari a rotazione un po' tutti gli influencer che verranno. Lo faremo sicuramente. Se riusciamo a incastrarlo tra i tempi, non so se poi c'è tempo o meno, però sarebbe una figata. L'evento durerà circa due ore, due ore e mezzo, in base a quanto ci intratteniamo, quante domande li facciamo, quanto degusteremo, quanto mangeremo. Quando ubriachi dopo... Sto scherzando? Si rotola giù. Rotolando verso... Ci mettiamo a rotazione e facciamo le interviste live. Le interviste si fanno dopo, giustamente. Per sapere le impressioni, perché... E lì vorrà sicuramente parlare del vino, dell'impressione sul vino, tu magari del cibo. Del cibo, lui ormai è il cibo, sì, sì, sì. Troppo un capo uguale food. Secondo me di come funziona questo nome, si ricorda? Io ti ho cambiato, ho scritto troppo una testolina sul telefono, poi vediamo. Senti, e perché quindi portare influencer, blogger, radio in questo progetto? Perché vuoi far sì che si entra più in contatto con la relazione social network? O c'è un progetto più fine? Non lo so, insomma, raccontaci. Per entrambe. Ok. Chiaramente il progetto di portare wineblogger e instagrammers da Lungarotti è su due fronti. Uno per la diffusione del marchio di Lungarotti, per la conoscenza, e ci sono sia wineblogger che instagrammers, quindi appassionati di passaggio, di fotografia, che potranno fare su quelle belle colline Montefiore, con le foto, che noi per quanto riguarda il vino. E l'altro perché spero di poter portare in altri eventi instagrammers e winelovers, allargare magari, perché attualmente siamo tutti, in questo evento siamo tutti nei dintorni di Perugia, qualcuno fuori. Ok. Ma non siamo molti fuori, il marchigiano, due abruzzesi, due del Lazio. Quindi hai fatto un progetto ad ampio spettro, non è soltanto per... Ad ampio spettro, diciamo, quelli che vengono fuori regione e con quelli con cui ci ho molti contatti social su Instagram, che alcuni non li ho mai visti, non li ho mai incontrati. Quindi è stata anche un'occasione per incontrarli in persona, dai, è una cosa bella, è una cosa giusta da fare. La cosa bella della rete è anche questa. Io ho conosciuto, per esempio, Liana l'ho conosciuta tramite Instagram. Sì, mi stalkerava su Instagram. No, no, ci siamo aggiunti per caso, poi per strada, ma sei tu, sì, sei tu, e alla fine, insomma, è diventato il mio capo. No, non è retribuito, non è che poi arriva l'agenzia per le entrate, dice dov'è, la busta paga. L'ispettorato del lavoro. Cioè, mi sfrutta e non mi paga, ragazzi. Questa è un'altra storia, ragazzi. E quindi conosceremo tutti quanti, conosceremo, io conoscerò diverse persone che ho rapporti, ma che non ho mai incontrato ancora. Sì, sì, sì. No, infatti anche io e lui ci siamo conosciuti per gli eventi, per le degustazioni che si venivano a creare, sempre tramite social. Quindi, dai, l'importanza dei social network oggi non è tanto quello di, tra virgolette, passatemi il termine, influenzare soltanto su determinati brand, ma anche quello di stringere relazioni, rapporti. Perché alla fine quello che rimane sono questi, ragazzi. Oggi sono molto filosofica. Sei emozionante. Qualcuno sta piangendo dall'altra parte che ci riguarda. Anche io tra poco piango. Vabbè, parliamo qualche minutino di questo vino, una degustazione che adesso Nicola ci dirà le sue. Guido io la degustazione. Va, che emozione. Allora, fate girare il vino. Vedete le lacrime? Basta, mi fermo qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, ci sei? Ciao, sono ignorante. Ciao, troppo un cavo. Allora, ho scoperto il batonnage, abbiamo scoperto il terroir, le lacrime. So che se le lacrime scendono velocemente è una cosa, se non scendono c'è un'altra. Ok. Basta, mi fermo qui. Adesso tocca a te che sei l'esperto. No, Eliana. No, vabbè, dai, facciamo una cosa insieme. Sì, sì. Sì, fortunatamente siamo in una stanza abbastanza bianca, quindi possiamo già notare il colore bellissimo di questo vino, che io direi è un porpora pieno, con qualche già riflesso timido verso il rubino. Molto, 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 molto timido, sì. Però bello il colore. Molto bello, vivido e lucente in questo calice. Ed è abbastanza consistente. Dobbiamo vedere sia il Sangiovese che l'impronta del Sagrantino. Il cuore, e il cuore è sicuramente quello del Sagrantino. E poi ha questi riflessi, capito, un po'... Ma come faccio a capire questa cosa? Spiegatemelo. Piccola lezione, piccola lezione. No, semplicemente il Sagrantino ha carica cromatica molto forte rispetto al Sangiovese, invece che ha meno terpeni, insomma. I terpeni sono quelli che trovi sulla buccetta e danno il colore al vino. E il Sangiovese e il Pinot Nero, per esempio, sono molto scarichi di colore rispetto alla potenza cromatica e del Sagrantino. Come si vede che io sono pro-Sagrantino, la potenza cromatica. Anche io ho un Sagrantino, devo dire, è il mio preferito. Piacciono i tannini? Un botto, un botto. Ci facciano i tanni in time. Io mi farò un nuovo account all'app in time. Posso rubartelo? Prego, tanto poi non saprei cosa scriverci. Puoi ripostare le foto degli altri? Ci sono tantissimi. Lo posso fare, online che lo fanno. Poi di loro fanno un amazzo, però è un problema. Sì, vabbè, se vogliamo essere polemici, ci sono anche chi posta bottiglie chiuse. Ragazzi, ragazzi, che bottiglie si aprono! Però va bene. Costa meno postare bottiglie chiuse, sicuramente. Influencer potenti. E quindi abbiamo già decantato le lodi di questo vino. Esatto, bravissimo. Vai, facciamo vedere. Io lo faccio vedere qui. Questo momento magico. Vini che si vedono. Per chi ascolta solo il podcast, andate su YouTube o Facebook dell'Istituto Italiano Design e troverete il video. Andiamo al nasino. Andiamo al nasino. Nicola, cosa percepisci? Eh no, da questo punto di vista ho un naso che non funziona, quindi... Ricordati, frutta e fiori sempre. Sento frutta e fiori. E che frutta? Come li vai a definire? Sento una frutta freschezza, al naso fresco. E' bello, mi piace. Questa cosa l'hai detta giustissima. Ecco, no, non sbaglio mai. Perché dico solo le cose che penso. E basta. E' la cosa giusta. Beh, la frutta. Tu immagina la frutta che mangi. La frutta che mangi. Mentre la mangi, sicuramente ti andrà un po' dell'odore. Sento molta alcolicità nel naso. Posso dire questa cosa ha un senso? Ha un senso. Anche perché qua stiamo parlando di 14 gradi, eh? Ecco, benissimo. Di un'annata eccezionale, però comunque è un'annata... Posso usare la macchina dopo? Sì, anche perché... No, anche perché è molto equilibrato, eh? Adesso lo sentirai al palato. Questi 14 gradi sono ben integrati con la struttura del... Comunque, io prima a Deli gli ho mandato un messaggio, ho detto questa è la bottiglia di Lungarotti che io ho a casa, ma non avete notato la finezza. Il blog è nato nel 2015 e questo è nel 2015. No, ragazzi, applauso. Cioè, quindi praticamente ci siamo bruciati una bottiglia di valore per il momento. No, 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 assolutamente no. Vabbè, di valore è empatico, anche perché ha detto che Lungarotti è la prima cantina che, diciamo, è approcciata a questo mondo. Eh sì. Il 2015... Ah, raga, adesso dopo vado a... Adesso mi stai dicendo che uno dei tuoi figli, figlie, ha un nome legato a un vino. No, no, no. Sarebbe clamoroso a questo punto. No, no, no. Andrea Raffaele e Anita, quindi non sono legati al vino. Hai fatto tre, è altissimo. Cioè, io ho trovato... No, 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 Andrea... No, no, Andrea Raffaele perché c'è il doppio nome. Ah, ok. Andrea, allora. E Anita. E più che altro, se vogliamo dirla in ambito logico, io mi chiamo Alessandro, Andrea, Anita, quindi è come se fossero i vini di AAA. No, vabbè. È stato pure... È stato una casualità. Momento nerd, è un momento nerd. Infatti non sto capendo niente. È stata una pura casualità. No, è stata una pura qualità di verità. Non abbiamo... Non ho spiegato le mie cose, questo AAA. AAA sono delle certificazioni che vengono date da un'associazione a dei vini che rispettano determinate caratteristiche. Diciamo che rispettano la biodinamicità. Ah, ok, va bene. Che gran nerd. È bello stare con i nerd dei vari settori. Mi piace. Andiamo avanti con questa... Cosa sentiamo? Sì, io so. Il naso cosa senti, tu hai continuato. Il naso cosa senti, allora? Non ci ha detto che è frutta rossa? Beh, sinceramente io non sono un... Non ho un naso, quindi non vi posso mai aiutare. Beh, sicuramente frutta a polpa rossa, quella che sentiamo. È vero, adesso che l'hai detto la sento anche. Frutta a polpa rossa. Mi devo abituare a queste cose. Insomma, non è che sentiamo banana o mango qui dentro, voglio dire. No, perché non riesco a identificare ancora le cose. Attenzione, le prugne. Sento delle prugne. Sei bravissimo. E le more, le more, le sentiamo le more. Attenzione, non lo so. Le more di gelso. Questo non lo so. Sì, la prugna è quasi, devo dire, la prugna è leggermente in confettura. Sta andando sulle... Esatto, esatto. Poi abbiamo anche... Sta andando sulle note dolci. Un floreale di una rosa canina ancora abbastanza... Non già macerata, sai, è un po' più fresca, non certamente quella appena coltivata. Ma molto, molto elegante. Una violetta, una violetta delicata. Diverso al vino. Sì. Molto... Questa volta ho dimenticato di versare. Il problema è che mi ricaricano continuamente. Non è un problema, è un piacere. È un piacere, benissimo. Poi c'è un leggero speziatura. Sì. Abbiamo la speziatura. Chiodi di garofano. Sì, 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 sì. Ah, è vero, anche questo c'è. Una leggera... Un gelosentore di bacca di vaniglia, ancora molto leggera. Sì, perché questo fa un passaggio... In legno. In legno. 12 o 18 mesi, non lo ricordo precisamente. Ah, questo non lo ricordo neanche io. Poi stavo leggendo che anche Lungarotti è vino biologico certificato. Questa sa che mi era sfuggita? È un vino biologico certificato. Per la tenuta di... Di Montefalco? No, la tenuta di Montefalco sicuramente. Un vino biologico certificato. Questa mi era sfuggita. E poi io sento tanta mineralità, più che magari sentori erbacei. No, erbacei non li sento. Esatto, molto mineralità quasi polverosa, un po' di cipria, via. Beh, la cipria magari la sentiamo noi donne che ne abbiamo a contatto tutti i giorni. Infatti non lo so la cipria. Però sì. Sì, questo bel sentore polveroso, sai. Bello, bello. Molto elegante, molto fine al naso. Mi sono fermato alla polpa rossa. Un naso è importante. Un naso è importante, assolutamente. Anche perché è del 2015, quindi già andiamo verso un vino che sta evolvendo. come diceva lui all'inizio. E sono come il vino che... Time, evoluzione. Ecco. Andiamo all'assaggio. L'assaggio, Nicola, tu metti un sorsino in bocca. Sento molto l'allapping time. Schiaccialo al palato. Passati il vino sulle gengive, sotto le gengive. Insomma, fai fare un po' centrifuga. Vedi, insomma... Una leggera aspirazione. Con la lingua di schiacci sul palato. E ti dovrebbe riempire tutto quanto. Anche qui sento tanta freschezza, sento il tannino. Interessante. C'ha una bella acidità. C'ha una bella acidità. Anche questa la percepisco, persistente direi. E questa acidità ancora viva ti dà la percezione che il vino ha ancora tanto da evolvere. Perché è un vino che è voluto, tra virgolette, è stanco. Nel senso, non ha tanta... Esatto, non ha tutta questa acidità, questa freschezza di palato. Invece qui ha voglia di tempo che ancora può fare in bottiglia questo vino. Il tannino, direi che è quasi integrato, ma è ancora bello spigoloso, bello vivo, bello... Sì. ...forte, no? Questo è il secondo elemento che ti dovrebbe far pensare alla longevità del vino. Esatto. Il tannino ancora lo senti integrato, ma non tutto. C'è ancora qualche spigolo che non è perfettamente amalgamato in tutta la bocca, quindi c'ha l'evoluzione ancora. L'acidità e il tannino. Sto studiando sempre di più, è incredibile. E poi senti l'alcolicità bella, strutturata, perché l'alcolicità va a braccetto con la struttura del vino, no? Perché altrimenti tu senti solo l'alcol se non c'ha struttura questo vino. E la puoi percepire giù che... Sì, riscalda. Per il famoso cannarone, come si dice in napoletano? O cannarone? Non lo so, perché sono irpino, quindi non so. Che riscalda e... Sì, quindi questo... quando il vino ti trasmette questo, diciamo... Calore. Questo calore, sai indicare cosa? Che l'hai strutturato l'alcolicità? Allora, quando non la percepisci in bocca, subito, in un'alcolicità, vuol dire che c'è qualcosa che non va con la struttura del vino. Invece riuscire a percepirla giù per la gola, ti fa intendere che tu, anche perché è persistente, infatti io adesso sto parlando, ma in bocca hai una bellissima percezione della frutta di prima, non dell'alcol. Ed è qui che è l'importanza della struttura del vino. Ah, ok. Che poi senti il cannarone, la gula, calda, capito, ti va a indicare la struttura stessa del vino. Ok, interessante. Anche perché sono 14 gradi. Il lato negativo sarebbe se tu sentissi soltanto l'alcol. Ok. Quindi ti dà solo calore, ma il calore e il corpo del vino non ti reggerebbe il calore. In questo caso invece regge tutto quanto, la bocca. Esatto, esatto. Cioè ogni volta penso di aver imparato qualcosa e invece mi sa che è un mondo infinito e come in tutti i mondi è difficilissimo. E come in tutti i mondi bisogna sempre studiare. Come tu ogni giorno c'è aggiornamenti sui social. Sì, infatti sono stanco, vado a dormire stanco. Ma chissà voi dopo aver bevuto diversi vini. Stanchi ma felici. Stanchi ma felici. Assolutamente. La cosa positiva di bere vino è che dopo sei uhuuu, no? Io noio. Quando leggo cose di Instagram dico no, è cambiato di nuovo, che depressione. Ma è bruttissimo come è cambiato Facebook, eh? Eh sì, il nuovo layout. Vabbè, ne parleremo in altre puntate, in altri programmi. Bene. Il sommelier si dice che è l'unico essere umano autorizzato a sputare. Sì. Abbiamo le sputacchiere perché se andiamo a un evento lungo che dura magari otto, nove ore, non puoi assaggiare. Certo, è impossibile. E non so, dieci cantine, quattro vini o tre etichette per cantina, assaggi trenta, quaranta e... Sì, è folle. Sì, è scemo, no? È folle. Beh, speriamo comunque di fare questa... E anche essere responsabili e professionali, perché riuscire poi a parlare o ricordare o descrivere o comunicare un vino e ne ha bevuti cento, penso che devi essere, non lo so, Nostradamus, a ricordartene e a descriverne cento. Quindi la professionalità sta anche nel dire sputo, anche se non è, per virgolette, bello, ok? Però ho percepito quel vino, ne posso parlare, ne posso comunicare. Certo. Qualcuno qui ci chiede cosa stiamo degustando. Allora, Montefalco Rosso, doc, 2015, semplicemente. della cantina Lungarotti. Vivremo l'esperienza Wine Experience di Tanni in Time, di Alessandro, che è qui con noi ospite. E per me ci siamo. Sì, intanto abbiamo ancora due minuti, quindi allora ricordiamo che ci vediamo, sperando di avere questo tempistico in esterna, in diretta, sempre con webcam e microfonino. Sarà una figata, secondo me. Quindi sabato ci rivediamo probabilmente in diretta, poi anche in podcast. A mangiare e a bere. A mangiare e a bere. Sicuramente potete seguire le stories. Sì, sei potentissimi. Ce l'hai l'elenco, non riusciamo a fare l'elenco veloce di chi c'è. Allora, intanto, mentre trovi l'elenco, dico che potete ritrovare questo podcast in video. Siamo in diretta su Radio Design e poi sull'Istituto Italiano Design. In video sempre su YouTube, quindi c'è tutta la playlist addirittura di Wine Design. In podcast su Spotify, Spreaker, iTunes. Quindi tutte le piattaforme che vi pare. Su Instagram, se seguite sempre Eliana, Eli on the road, trovate poi anche lo storico di tutte le dirette. E riuscite a trovare anche sulle IG story anche di diverse interviste che lei ha realizzato con altri vignaioli o produttori enologi, eccetera. E ce l'abbiamo l'elenco. Ce l'abbiamo l'elenco. Ce l'abbiamo l'elenco. Diamo l'elenco di chi, quindi potete seguirli magari, giusto per seguire l'evento in diretta sabato. E siamo chi? Vai. Allora, sabato saremo Troppo un capo, Eli on the road, Colazione inclusa, Valeria di Rieti, Enodiari, Leonardo, Fata Morgana, Granduca, Aigers Umbria, con la Fatina Rossa sarà presente. Ciao Fatina. Bene, siamo un botto di gente. Siamo tanti siamo. Quanti siamo? Più di Diego? Venti. Una ventina, una ventina. Dovremmo essere una ventina. È grossa. È grossa. Una bomba. Facciamo il panico. E chiaramente ci saranno presenti quelli di Lugarotti. Sarà presente il consorzio di Montefalco. Montefalco. Bene. Un botto di gente. Saremo una trentina di persone. Sarà un party. Yeah. Wine and food party. Ok, allora alla prossima. Chiudiamo. Ragazzi, grazie per averci seguito. Grazie ad Alessandro. Ciao ragazzi. Ciao.